Tre bombole di gas collegate tra loro con un innesco unico, questo ha provocato l'esplosione che stamattina Brindisi ha portato alla morte di una studentessa di 16 anni, Melissa, di Mesagne e al ferimento di altri sette studenti, quasi tutte ragazze, ricoverate all'ospedale Perrino nei reparti di chirurgia estetica nel centro Ustioni. Una di loro, Veronica, è gravissima ma stabile dopo un delicato intervento cui è stata sottoposta. L'esplosione ha coinvolto alcune studentesse che erano appena scese da un autobus proveniente proprio da Mesagne, il paese culla della Sacra Corona Unita. Tutte le vittime dell'attentato stavano andando a scuola all'Istituto Professionale Francesca Morvillo Falcone, in via Galanti, quando c'è stata la defrazione, un attentato per uccidere e per provocare una strage che aveva come obiettivo gli studenti e non la scuola, che pur è intitolata la moglie di Giovanni Falcone, più di una coincidenza vista la vicinanza al ventennale della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio del 1992. L'Istituto Professionale si trova a poca distanza dal Tribunale da una scuola media. Le bombole di gas si trovavano sul muretto esterno della scuola. Sul luogo dell'attentato sono al lavoro i tecnici della Polizia Scientifica e i vigili del fuoco. L'area davanti alla scuola è stata transennata per almeno 200 metri. I detriti sono volati anche a decine di metri di distanza dal luogo dell'esplosione. Il fondo di una bombola di gas è volato a circa 50 metri di distanza sfiorando una Fiat Punto che stava transitando vicino alla scuola, mentre un pezzo di insegna di un esercizio commerciale è stato trovato a 250 metri di distanza. Un attentato che ha il sapore di una sfida, questo, avvenuto a pochi giorni dall'anniversario di Capaci e nel giorno dell'arrivo della carovana antimafia sul territorio Brindisino. Tra gli episodi e l'attenzione degli investigatori c'è un attentato avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 maggio a Mesagna ai danni del presidente della locale associazione antiracket, Fabio Marini. L'auto di Marini venne completamente distrutta da un ordigno. La notte tra l'8 e il 9 maggio, sempre a Mesagna, un'operazione della polizia ha portato l'arresto di 16 persone accusate a vario titolo di associazione delinquere con finalità mafiose, droga ed estorsione. Un'operazione contro esponenti della Sacra Corona Unita e che si è in parte anche basata sulle dichiarazioni di un pentito. La scuola Morvillo Falcone aveva vinto il primo premio della prima edizione del concorso sulla legalità. Lunedì arriverà la ministra Cancellieri per una riunione del Comitato Nazionale dell'Ordine della Sicurezza. Gravissimo perché colpisce dei ragazzi, gente innocente che non c'entra nulla, gravissimo perché avviene davanti a una scuola, gravissimo perché avviene in pieno giorno e poi ci sono due strane coincidenze, il transito della carovana nazionale antimafia e poi perché siamo davvero vicini all'anniversario della strage di Capaci. Tutto questo ci fa molto pensare ma oggi siamo solo interessati in questo momento alle condizioni dei ragazzi.